Come risolvere l'errore riguardo a Windows Update? Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo dove vi spiego come risolvere l'errore del 0x807.3 L'errore è questo qua su Windows Update Per risolvere questo problema ci sono tre metodi da fare su Windows Ovviamente vai un attimo su cmd Prompt dei comandi esegui come amministratore In descrizione ti ho lasciato dei comandi da inserire sul prompt dei comandi Quindi in questo caso inserisci il primo comando Ctrl V e poi invio Aspettiamo così l'elaborazione Quindi sta caricando un attimo che fa il suo procedimento Quindi fa il suo processo Eccolo qua che è partito Deve arrivare a 100 Una volta arrivato al 100% Devi inserire il comando per fare il ripristino ai file Fare anche una scansione e fare anche un ripristino Quindi sfc spazio slash scanno Dopo aver fatto questo comando Perché una volta eseguito tutto questo Andremo a risolvere altri problemi sui servizi Quindi sulla scheda dei servizi Eccolo qua Però prima di toccare i servizi Aspettiamo il procedimento sullo cmd Quindi non ci resta che attendere Poi una volta eseguito il primo comando Riavvia così il tuo sistema Vai su cmd Esegui come amministratore il prompt dei comandi E inserisci il secondo comando Farà così la verifica ai file Farà anche un ripristino ai file E una volta fatto tutto questo Chiudi un attimo tutto qua Più di tutto Vai sui servizi E possiamo andare sul servizio di Windows Update Eccolo qua Windows Update Cerchiamo sopra Se lo stato del servizio è arrestato Tu devi avviare questo servizio Una volta avviato Se su tipo di avvio c'è scritto automatico O manuale Tu devi mettere automatico E fai applica E fai ok Una volta fatto Vai su Risoluzione Procedure consigliate Di risoluzione dei problemi disponibili Eccolo qua Altri strumenti di risoluzione dei problemi Ed eccolo qua Il sistema sulla risoluzione dei problemi C'è Windows Update Quindi una volta fatto su esegui Ci dirà qual è il suo problema Quindi facciamo esegui E farà un rilevamento dei problemi E farà un rilevamento dei problemi windows problemi trovati verifica la presenza di problemi windows update rilevato facciamo il problema è stato risolto facciamo no facciamo su chiudi strumento di risoluzione dei problemi chiudiamo qua e andiamo su windows update verifica disponibilità aggiornamenti mi ha rilasciato così un aggiornamento per microsoft defender antivirus e lo sta pure installando senza nessun problema chiudiamo un attimo qua se in questo caso hai problemi a installare automaticamente gli aggiornamenti su windows 10 o windows 11 c'è il catalogo degli aggiornamenti per fare l'installazione manualmente quindi vai su chrome ed eccolo qua in descrizione ti ho lasciato pure questo link tu vai a scrivere l'aggiornamento che devi fare per esempio il kb 503 42 36 devi scrivere uno di questi codici che troverai su windows update tipo se ti esce l'errore errore dell'aggiornamento 0 per 3000 quella errore la c'è scritto pure l'aggiornamento che devi fare quindi tu scrivi qua il tuo aggiornamento per il tuo windows prodotti mi raccomando su prodotti devi vedere se c'è il windows 11 windows 10 versione successive aggiornamento dinamico quindi io vado cliccare qua sopra questo è questi sono tutti i dettagli dell'aggiornamento che dobbiamo fare il dettaglio di pacchetto eccolo qua tutti questi dettagli per scaricare l'aggiornamento tu devi solamente cliccare su scaricamento io ovviamente andrò a scaricare la versione più grande quindi il pacchetto più grande dimensione 724 megabyte faccio scaricamento e mi raccomando il file deve finire sempre come .msu se no ti uscirà un pacchetto con tanti file che poi non sai dove metterli quindi per risolvere il tuo problema devi per forza scaricare il driver .msu una volta scaricato devi solamente installare il pacchetto driver vai fatto clicchi sopra installi basta e fai fare tutto a windows automaticamente come puoi vedere c'è pure il driver per nvidia i portatili lenovo viewsonic e altri prodotti anche quelle di amd se ti serve quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema su windows update che non scarica così l'aggiornamento iscriviti lascia like per altri problemi commenta sotto al video e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao